Sarebbe bello poter tornare indietro nel tempo. Il problema è... Torno dietro. Torno dietro. Quindi posso tornare indietro nel tempo. Che c'è fai solo con 60 secondi? Se avessi puntato 1.000 euro un minuto primo, ne prendevo 80.000. Go, Florenzi! Go! Resi! Resi! Florenzi! Go! Beno. Ma che cazzo vedi quando hai fatto? Ma dove hai questi cazzoni ai cavigli? Questa è la moda giovane, la chiamano moda hipster. Ah, è così, bitch, è così. Chi ha il tuo gioielliere, bitch? È peggiorato il tuo fratello, eh? Ammazza che pippa! Vedi quando divento chef? Voglio diventare cattivo, a trattare i mali come quelli della televisione. Sta a sentire. Ah, Singh! Hai pulito quel cazzo di padelle? Oh, la Scania non rompe palle? Cattavamo. Tito!